La Guardia di Finanza, al termine di articolati accertamenti, ha scoperto soggetti nullatenenti di etnia Rom che in realtà nel corso degli anni erano riusciti ad accumulare ingenti beni. Stamane i militari delle Fiamme Gialle del nucleo di Polizia Tributaria di Teramo, coadiuvati dai Baschi Verdi nei territori di Alvadriatica e Martinsicuro, in esecuzione dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Teramo su richiesta formulata dalla locale Procura della Repubblica, hanno provveduto alla confisca, previo sequestro di beni patrimoniali, per un valore di circa un milione e mezzo di euro. Le indagini delle Fiamme Gialle, già iniziate dal 2009, caratterizzate da controlli fiscali, analisi di tabulati, analisi di conti correnti e proprietà dei membri delle famiglie interessate, hanno consentito, nell'ambito dell'operazione, di individuare i soggetti destinatari dei provvedimenti sconosciuti al fisco, ma con un tenore di vita non consono alla propria capacità contributiva dimostrata dai beni posseduti, sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati. Agli stessi Rom sono state ricondotte somme di denaro esistenti su libretti postali e su depositi bancari, autovetture, beni mobili e immobili, senza aver mai presentato alcuna dichiarazione fiscale e svolto alcuna attività lavorativa, come del resto accertato dai militari, anche presso gli archivi INAIL, IMS e Camera di Commercio e pertanto ritenuti frutto di attività delittuose da cui si ritiene derivano i proventi. Coloro che sono risultati intestatari di appartamenti ed autovetture erano di fatto indigenti per il fisco. L'operazione delle fiamme gialle ha evidenziato inoltre che i beni sequestrati erano stati precedentemente acquistati anche da soggetti pluri pregiudicati. Il provvedimento di sequestro ha permesso di apporre i sigilli su cinque immobili di civile abitazione, di cui tre ad Alba Adriatica e due a Martinsicuro, di diversi libretti postali e di un'autovettura. L'operazione delle fiamme gialle, con l'adozione della misura di prevenzione patrimoniale, mira a colpire i patrimoni accumulati illecitamente dai Rom residenti nel territorio terramano.